Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora, prima di entrare nel merito di questo video, dell'argomento di oggi, volevo ricordarvi che ho aperto un canale su Telegram che si chiama sempre Dario Orgoglio Italiano. Se non volete perdere i miei commenti, magari è il caso di iniziare ad iscrivervi perché, come sapete, non si sa mai. Ieri avrete sicuramente appreso, mi hanno censurato, mi hanno bloccato un video che poi in ogni caso però potrete vedere su Telegram perché su Telegram sono riuscito a metterlo. Però, ripeto, può anche darsi che da un momento all'altro potrebbero anche, ad esempio, chiudermi questo canale come è successo ad altri. E quindi, per non perderci, ho ritenuto di aprire anche su Telegram un canale che si chiama appunto Dario Orgoglio Italiano. Ma veniamo all'argomento di questo video. Allora, ieri sono girati pochi video per quanto riguarda le varie manifestazioni, ma in particolare due manifestazioni molto importanti, quella di Firenze, di Sole Donne, della Nunzia Schilirò e l'altro intervento fatto a Trieste con Puzzer e la presenza anche di Carlo Freccero, ex direttore di Rai, ma anche di Mediaset, un giornalista di grande esperienza che da molto tempo ci sta parlando di questo disegno del grande Reset. Quindi un uomo che ha competenze, ha informazioni importanti. Ora, io dico subito che noi, malgrado possiamo criticare talvolta certi punti di vista, certe azioni da parte in particolare di Schilirò e Puzzer, però noi dobbiamo essere dalla loro parte. Noi dobbiamo seguire le loro gesta, possiamo anche criticare, io stesso l'ho fatto, ma il grave errore che possiamo correre è immediatamente voltare loro le spalle, ritenere che non è giusto seguirli, ritenere di non partecipare alle loro iniziative. Noi invece lo dobbiamo fare perché siamo sempre in tempo poi magari se ci accorgiamo che non ci porta nulla e che soprattutto non porta di risultati a fare i marci indietro. Tra l'altro devo dire che io la vedo un po' su due piani diversi. Una è l'azione che noi dobbiamo continuare a fare possibilmente tutti i giorni e sicuramente nei weekend, anche perché magari durante la settimana le persone lavorano e i numeri sono più bassi, ma sicuramente nei weekend dobbiamo continuare a scendere nelle piazze, non avere paura perché è un nostro diritto, i nostri diritti vanno difesi, loro stanno cercando di metterci la museruola e noi dobbiamo reagire contro questa che non è più una democrazia compiuta, come io ho avuto modo più volte di sottolineare. Quindi scendiamo nelle piazze delle grandi città, ma anche delle città medie e piccole, facciamo sentire costantemente la nostra voce, il nostro dissenso, partendo sicuramente dal Green Pass odioso nel mondo del lavoro, perché odioso chiedere ad un lavoratore di pagare per lavorare, che è un suo diritto sancito dalla Costituzione. Ma anche su tutti gli altri temi che ci stanno colpendo la politica da parte di Draghi, una politica che sicuramente non è a favore del popolo italiano e non potrebbe essere diversamente da parte di un uomo delle banche. Cerchiamo anche di far alzare il tono della nostra protesta e della nostra comunicazione per quanto riguarda ad esempio la possibilità che Mario Draghi possa andare al Quirinale, perché sicuramente per il popolo italiano questo sarebbe una sciagura. Poi ci sono le azioni che stanno intraprendendo la Schilirò e lo stesso Puzzer, si sta allargando un po' il fronte delle persone di buona volontà che hanno capito per forza che si debbano unire. Quelli che hanno interessi personali piano piano si perderanno, perché così è e io me lo auguro vivamente, mentre quelli che realmente sono dalla parte del popolo vedrete che piano piano si uniranno, stanno maturando delle iniziative. Trovo buona l'iniziativa ad esempio di Stefano Puzzer di andare a Ginevra, all'ONU, perché noi dobbiamo anche ragionare in termini internazionali, perché è evidente che se tutto il resto dell'Europa non fa come fa l'Italia, cioè il Green Pass nel mondo del lavoro, ci sarà una ragione e quindi è più probabile che facendoci sentire a livello europeo possiamo avere una sponda per combattere questo odioso Green Pass in particolare nel mondo del lavoro. Poi si espressa anche la Corte Costituzionale per quanto riguarda il prolungamento dell'emergenza e anche qui è chiaro che il governo italiano e Draghi come hanno fatto di recente potrebbero anche fregarsene, ma è evidente che questa è una sponda nei confronti del popolo italiano che si sta battendo per questo, perché è una cosa andare in piazza contro l'emergenza, ad esempio avendo il conforto della Corte Costituzionale, è una cosa andare in piazza avendo invece tutti contro. Noi dobbiamo piano piano farci anche degli alleati e la cosa migliore sarebbe quella di avere come alleati il resto del popolo italiano. Non mettendo sul tavolo il problema del vaccino, cioè uno fa come meglio crede, deve essere libero le cose, abbiamo ormai capito che è falso che i vaccinati non contagiano e contagiano solo quelli non vaccinati e quindi da quel punto di vista diciamo che siamo abbastanza sullo stesso piano. Poi può essere diverso ed è assolutamente forse vero il fatto che chi si è vaccinato ha meno la probabilità di finire in ospedale e di finire in terapia intensiva. Però c'è sempre poi un altro grande punto di domanda che solleva Luc Montagnier per quanto riguarda il futuro, quello che potrebbe derivare dall'assunzione dei vaccini e questo lo sapremo probabilmente solo fra qualche anno. Ma ci sono tantissimi altri temi sul tavolo, però ripeto noi non dobbiamo basarci su questo per cercare di portare il popolo italiano dalla nostra parte ma rispetto alle politiche che è stato amdo Mario Draghi, rispetto alle libertà che oggi magari riguarda il vaccino ma un domani potrebbe riguardare qualcosa che magari interessa proprio quella fascia di popolazione che ha scelto il vaccino stesso. Quindi dobbiamo unire le forze anche da questo punto di vista. Con queste riflessioni vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.